Un turista in vacanza decide di andare a prostituta. Così si parte e va in una casa di appuntamento. Va a parlare con la maitresse e le spiega giustamente che lui poteva solo spendere 5 euro perché aveva solo quella somma lì. Allora la maitresse, ma con 5 euro figlio mio, che cosa ti devo dare? Le ragazze qua costano tutte dai 50 euro in su, tu hai solo 5 euro. Allora l'uomo, maitresse, veda cosa vuoi fare perché ho questo desiderio. Allora la maitresse, io ti posso dare la ragazza della stanza 103. Allora l'uomo, la ragazza della stanza 103? Sì, sì, quella si mette a disposizione tranquillamente. Ah, per me va bene. Alla maitresse dice, però attenzione, la ragazza è sordemuta. Per cui automaticamente, no, va bene, non fa niente, risponde l'uomo. E così si parte e se ne va verso la stanza 103. Appena arriva dalla stanza, apre la porta e si trova una ragazza distesa sul letto a cosce aperte. Allora lui si avvicina, si sfoglia veloce veloce e si butta sopra la ragazza. Appena si butta sopra la ragazza, nota che ai lati della bocca della ragazza gli usciva il liquido bianco. Allora lui, tutto scombussolato, mamma mia che schifo, e corre dalla maitresse a protestare. Allora la maitresse, non ti preoccupare, risolviamo subito il problema. Congita, congita, sì maitresse, congita, vai a cambiare la morta che è piena. Allora la maitresse, non ti preoccupare, risolviamo subito.